Unique-Versity, la scelta che ti rende unico. L'Università degli Studi di Foggia è uno dei più giovani e dinamici atenei italiani. 31 corsi di laurea, numerosi master, corsi di specializzazione e dottorati di ricerca che assicurano una formazione multidisciplinare e personalizzata, supportata da progetti e servizi innovativi. Visita il sito unifg.it e scopri perché nella nostra comunità universitaria ogni studente è unico. Unico come il tuo futuro.